Mattarella grande ospite della chiusura del Rossini Opera Festival. I 25 anni di Flore Sarroff chiudono una grande edizione. Le prospettive del turismo secondo il ministro Garavaglia in visita a Gradara. Appello dei 5 Stelle non si sposti infermieristica da muraglia. Una buona serata a tutti voi telespettatori e telespettatrici di Rossini TV che come ogni sera ci seguite sul canale 633 del Digitale Terrestre. Questa è Rossini News, il nostro spazio serale dedicato all'informazione della provincia di Pesaro Urbino e della regione Marche. Del giornale di lunedì 23 agosto che apriamo mostrandovi le immagini del presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ieri sera a Pesaro in Piazza del Popolo ha applaudito la chiusura del 42esimo Rossini Opera Festival. Una presenza straordinaria a Pesaro in quella che è stata la prima volta di un capo di Stato alla rassegna rossignana. Per la prima volta nella quarantennale storia del Rossini Opera Festival un capo dello Stato italiano presenzia e applaude la rassegna dedicata al Cigno Pesarese. In un centro storico blindato da metà pomeriggio, poco dopo le venti di domenica, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è presentato puntuale in Piazza del Popolo per sedersi in prima fila al cospetto del palcoscenico del Galarossini accompagnato dallo scroscio di applausi della platea pesarese. Applausi che Mattarella di lì a poco ha poi rivolto all'evento di chiusura del 42esimo dedicato al 25esimo anno di militanza al festival del tenore Juan Diego Flores. Mascherina sempre in viso, atmosfera composta e formale, per due ore che Mattarella ha cominciato con le note dell'inno di Mameli e continuato con la magia musicale rossignana. Due ore che il presidente ha trascorso al fianco della senatrice vita Liliana Segre. Una presenza straordinaria per il ROF e per Pesaro, città della musica Unesco, con il sindaco Matteo Ricci che ha applaudito e ringraziato la promessa mantenuta del capo dello Stato auspicando una sua permanenza in carica oltre la fine del mandato presidenziale prevista a febbraio. Applausi a Mattarella anche dal prefetto Tommaso Ricciardi, dal presidente della fondazione Rossini Gianni Letta, dal presidente della provincia Giuseppe Paolini e dal presidente della regione Marche Francesco Acquaroli. È un'estate all'insegna della cultura, all'insegna della bellezza, all'insegna di una regione che veramente vuole anche ripartire dopo delle stagioni purtroppo fortemente condizionate dal covid e questa sera a Pesaro una chiusura straordinaria alla presenza del presidente Mattarella. In questa fase il rispetto della sicurezza e la capacità di sapere organizzare bene siano insieme due fattori indispensabili per poter ripartire e per poter ritornare piano piano a una normalità che ci faccia riaffacciare e anche pregustare veramente poi quella che speriamo presto sarà la normalità vera. Non solo il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, quella di ieri sera è stato anche un eccellente galà a Rossini degna chiusura di un 42esimo ROF di altissimo livello. L'esorbitante quantità di riflettori e sguardi calamitati sul presidente della Repubblica Sergio Mattarella rischiava di distrarre dallo spettacolo di assoluta eccellenza del galà che in Piazza del Popolo ha chiuso il 42esimo Rossini Opera Festival. Ci ha pensato però la voce di Juan Diego Flores a risintonizzare in fretta tutte le attenzioni su un palcoscenico che ha celebrato i 25 anni di matrimonio fra il tenore peruviano e il festival spaziando fra alcune delle opere più riconoscibili del cigno pesarese e affiancandolo ad altre star della lirica come Sergei Romanovski, Marina Monzò, Marta Pluda, Pietro Spagnoli, Giorgio Cauduro, Matteo Roma, Jack Swanson, Manuel Amati e Niccolò Donini. Nella chiusura diretta da Michele Spotti è invece mancata all'appello la voce di Eleonora Buratto fermata da una indisposizione. Ma è stata comunque la degna chiusura di un Rossini Opera Festival di livello altissimo che alle limitazioni da Covid ha risposto con ben 25 spettacoli fra cui le quattro applauditissime nuove produzioni di Moise et Faraon, il signor Bruschino, Elisabetta Regina d'Inghilterra e lo Stabat Mater in forma scenica. Il sovrintendente Ernesto Palasio si augura che il 42esimo sia stato l'ultimo festival limitato dalle restrizioni da pandemia e per il 43esimo punta ad un festival più allargato sulla città che oltre a Teatro Orsini e Vitrifigo Arena possa utilizzare anche Teatro Pedrotti e soprattutto il nuovo auditorium che a rilento sta sorgendo dalle ceneri del vecchio hangar di Viale dei Partigiani. Un Palas Cavolini che nei piani iniziali puntava ad ospitare la chiusura del ROF tenutasi domenica e che invece sta rinviando il suo completamento a inizio 2022. Ed ora la cronaca, weekend intenso di controlli su tutto il litorale provinciale da parte delle compagnie di Pesaro e Fano della Guardia di Finanza che hanno presidiato il territorio con unità cinofile come attività di contrasto a spaccio, contrabbando e abusivismo commerciale. In totale nel weekend sono state identificate 108 persone e controllati 59 veicoli con una sanzione amministrativa elevata per possesso di sostanze stupefacenti. Controlli particolarmente concentrati al porto di Pesaro al momento degli sbarchi dei traghetti dalla Croazia ma anche nei distributori di benzina del territorio dove sono state elevate 5 sanzioni per la inosservanza della corretta applicazione delle tariffe dei carburanti. Venerdì sera uno straniero regolare sul territorio è stato arrestato dopo un controllo degli agenti della squadra mobile mentre l'uomo transitava in macchina al casello di Pesaro venendo da Rimini in quello che gli agenti hanno sospettato fosse un viaggio di approvvigionamento di sostanze stupefacenti. Perquisito l'uomo in questione stato sorpreso mentre nascondeva nelle parti intime due involucri contenenti complessivamente 20 grammi di cocaina. Perquisita anche l'abitazione è stato rinvenuto un bilancino di precisione a conferma dell'attività di spaccio. E questa sera alle 21 e 30 comincia la festa dell'unità con l'anteprima della rassegna del Partito Democratico alla presenza a Pesaro del Ministro della Salute Roberto Speranza che per l'occasione sarà intervistato da Gerardo Greco. Vi comunichiamo però che l'incontro è stato spostato da Piazzale con Lenuccio al Cinema Astra. Poco fa invece il Ministro Speranza è stato anche presente all'inaugurazione della rinnovata farmacia di Via Andrea Costa. E dal Ministro della Salute Speranza presente questa sera a Pesaro passiamo a un altro Ministro quello del turismo Massimo Garavaglia che ieri ha vissuto un intenso tour delle Marche con ben sei tappe nella nostra regione. Le nostre telecamere erano presenti alla prima tappa quella di Gradara e vediamo i contenuti espressi nell'occasione dal Ministro Garavaglia in questo prossimo servizio. Da Gradara a San Benedetto del Tronto passando per Iesi, Castelfidardo, Civitanova e Porto Sant'Elpidio. Sei tappe per un'intensa domenica di tour nelle Marche del Ministro del Turismo Massimo Garavaglia. Una fitta agenda di visite ministeriali dedicate a fare il punto tra presente e futuro di un settore alle prese con una faticosa ripartenza come testimoniato al Coventino di Gradara da una platea ricca di rappresentanti del settore alberghiero e della ricettività della provincia di Pesaro Urbino. Innanzitutto non c'è una gran crescita dei contagi probabilmente anzi sicuramente grazie anche al Green Pass e al fatto che tanta parte della popolazione si sta giustamente vaccinando quindi la vediamo con molto più serenità. L'estate non è finita, è finita una prima parte dell'estate. Abbiamo dagli operatori il messaggio che ci saranno tante prenotazioni anche su settembre di chi non è riuscito in questa parte per cui l'estate continuerà ancora settembre-ottobre ma poi c'è già l'inverno quindi stiamo lavorando per riaprire la stagione sciistica in totale serenità. Ad accogliere il ministro leghista al Conventino di Gradara il coordinamento del sindaco di Cartoceto Enrico Rossi è una amministrazione gradarese onorata di essere scelta come location provinciale per la visita di Garavaglia. Per noi è stato un importantissimo riconoscimento la visita del ministro Garavaglia oggi qui a Gradara che è un piccolo comune ma con grandi numeri turistici grazie al centro storico e alla rocca maltestiana. Quindi siamo onorati di aver raccolto il ministro e tantissima anche la partecipazione degli operatori del territorio non solo da Gradarese ma di tutta l'area da Pesaro e da Cabice in modo particolare per esporre il ministro alcune considerazioni e anche ascoltare poi quello che il ministro aveva da dire. Un incontro molto interessante e con importanti prospettive davanti a noi. Un futuro che mette nella sua agenda anche l'ultra rimandata ripartenza del settore delle discoteche. Intanto vediamo di dare un sostegno a chi è stato chiuso per legge e questo è già stato deciso e viene fatto. Poi speriamo ci siano le condizioni per riaprire penso dopo l'estate. Ed ora il nostro consueto aggiornamento sui dati della pandemia nella regione Marche che come ogni lunedì vedono una ridotta cifra di tamponi processati. 609 quelli testati di cui 274 nuove diagnosi. I casi positivi rilevati sono 34, la maggior parte dei quali 25 nella provincia di Pesaro e Urbino. I ricoverati nelle Marche sono 57, cioè due in più di ieri e salgono anche le degenze in terapia intensiva che passano da 10 a 13 unità. Il Movimento 5 Stelle di Pesaro accende i riflettori sulla sede del corso di laurea infermieristica all'ospedale di Muraglia che rischia il trasferimento a causa della perdurante coesistenza col centro vaccinale che da mesi è stato creato appunto nel nosocomio di Muraglia. Ne abbiamo parlato con i consiglieri comunali di Pesaro Lorenzo Lugli e Claudia Vanzolini. Siamo qui davanti all'istituto di infermieristica, un istituto che rischia di essere trasferito. Una cosa che noi del Movimento 5 Stelle riteniamo veramente dannosa per la città perché è un'eccellenza, perché è una cosa che ha richiesto un investimento di oltre un milione di euro su tempo. È stato fantastico utilizzarlo durante il tempo di chiusura estiva, ma adesso è ora che le elezioni riprendano e quindi non siamo assolutamente d'accordo con la proposta di Marche Nord di trasferirlo in un altro luogo. In primo luogo chiediamo per quale motivo, pur consapevoli del fatto che un punto vaccinale deve essere all'interno dell'azienda ospedaliera, per quale motivo è necessario utilizzare proprio questo spazio. Questo spazio è stato adibito a sede di studi di un corso di laurea in scienze infermieristiche grazie a un investimento importante. È tuttora funzionale, perfettamente adatto all'uso per cui è stato destinato, mentre invece per quanto riguarda il punto vaccinale è possibile utilizzare anche altri spazi. Questi spazi ci sono, anche in considerazione del fatto che la vaccinazione non viene fatta spontaneamente in massa, ma c'è un sistema di prenotazione. Di conseguenza ci sono spazi, ad esempio ci viene in mente il padiglione I del San Salvatore, che è un padiglione nuovo dove ci sono poliambulatori e dove ci sono ampie sale d'attesa che potrebbe benissimo in parte essere adibito a punto vaccinale quando non ci sono le visite specialistiche. Per cui ci chiediamo perché è proprio necessario rimanere qua come punto vaccinale e spostare all'università, per la quale poi fra l'altro è stato indetto un bando, e questa è la seconda domanda. Questo bando scade il 30 di agosto e a quanto pare ancora non ci sono offerte. Se questo bando andasse deserto per reperire dei locali che peraltro sarebbero in affitto e quindi avrebbero un costo ulteriore, oltre all'investimento fatto appena due anni fa dalla regione, per la sanità, ci chiediamo cosa succederà. Cioè se non si trova un altro posto, dove andrà a finire il corso di laurea in scienze infermieristiche? E l'ultima cosa che ci teniamo a dire, mentre questa eccellenza nel nostro territorio, questo corso di laurea che forma dei bravissimi professionisti, anche dal punto di vista umano e della cura a 360 gradi della persona, dovrà continuare ad esistere, il Covid si spera che finirà. Quindi, mentre questa è una situazione contingente, l'università è una situazione permanente che dobbiamo assolutamente difendere e mantenere. Tra l'altro mi viene anche da dire che il messaggio che viene dato in questo modo è un po' contraddittorio, perché se vogliamo spingere la vaccinazione per superare il prima possibile l'emergenza Covid, così invece diamo l'impressione che la cosa si allungherà e che invece i vaccini non risolveranno la situazione. Spero proprio che non dovremo vaccinarci tutta la vita, e che non sia questo il messaggio che vogliamo dare ai cittadini. Ultimo argomento è quello dell'intitolazione a Gino Strada. Si sta parlando di edifici sociosanitari o strade cittadine. Questo è appunto uno dei luoghi che potrebbe rispondere a questo tributo. Abbiamo raccolto l'invito del sindaco che ha manifestato questa volontà di intitolare una parte della città a Gino Strada, recentemente scomparso, e siccome la legge sulla toponomastica impedisce di titolare una strada troppo presto, prima dei dieci anni dal decesso, ci sembrava interessante cogliere l'occasione per intitolare lì questa cosa qua. Veramente ci sembra il modo migliore per onorare la memoria di un medico, di una persona coraggiosa, di uno che in ultima istanza ha dato sempre una mano a chi aveva bisogno. E chissà che non dà una mano anche noi per mantenere questo centro universitario così importante. Ed ora la pagina sportiva perché è cominciato oggi nel ritiro aquilano di Rimisondoli la nuova stagione dell'Alma Juventus-Fano che dopo mesi di tira e molla conclusi col marcato ripescatto in Serie C, si prepara ora alla Serie D col nuovo allenatore Carmelo Gioffre che da oggi è al lavoro con 29 giocatori. Vediamo chi sono i convocati, si tratta dei portieri Zafestas, Papa e Cosumei, dei difensori Gigli, Vavassori, Gualtieri, Zanolla, Giorgini, Miricu, Manuelli, Tramonto, Delicarri, Regioni e Del Rosso. Ma poi anche i centrocampisti Antezza, Faliveme, Licaxiu, Pierpaoli, Morsucci, Albano, Di Salve e Di Lucia e infine gli attaccanti Broso, Casolla, Bader, Tortori, Zanni, Maglie e Campo. E sono invece già cominciati gli impegni ufficiali per la Vispesero che sabato è stata sconfitta al Benelli dal Modena nel primo turno di Coppa Italia di Serie C. Vediamo. È cominciata l'avventura della Vispesero che sabato, a quattro mesi dall'ultima volta, è tornata al Benelli per la prima gara ufficiale della nuova stagione. Il primo turno di Coppa Italia ha però sorriso al quotato Modena di Tesser. Gli emiliani hanno infatti battuto 1-0 la Vis eliminandola dalla competizione. A risultare decisivo un gol su calcio d'angolo di Pergreffi a otto minuti dalla fine in quella che è stata anche la prima gara ufficiale di mister Marco Banchini sulla panchina pesarese. Credo che sicuramente il passaggio del turno del Modena è meritato, ci può stare. La sconfitta sicuramente ci dispiace e ci fa anche arrabbiare perché ai ragazzi posso dire ben poco se non legato a quello che è l'episodio del corner. Abbiamo, a mio avviso, scelto come difenderci all'inizio della partita, tra i primi 15 minuti siamo stati abbastanza bene in campo, poi dopo è normale che ci sono dei valori tecnici diversi e la cosa che bisognava fare era sapere interpretare, saper interpretare i momenti, abbassarci per poi provare a ripartire. Non è qualche volta che potevamo ripartire meglio, attaccare meglio la profondità, però insomma siamo stati in campo equilibrati, come hai detto tu, rischiando poco per poi magari provare a fare qualcosa di più dal punto di vista offensivo serviva anche un pochettino di forza e di condizioni in più, però adesso va bene così, abbiamo provato anche con dei cambi a dare energie nuove, sapevamo di dover affrontare un avversario molto impegnativo, però ripeto il fatto di essere organizzati, compatti e aiutarsi in campo mi fa comunque fare una riflessione positiva. La partita di oggi era un impegno abbastanza probante perché sapevamo che il Modena ha costruito una corazzata, però devo dire che sono rimasto abbastanza contento dall'interpretazione, dall'atteggiamento di noi ragazzi perché non era scontato partire bene, anche con questa personalità, siamo con una scala composta da tanti giovani e invece oggi non si è visto, abbiamo giocato tutti con il coltello tra i denti, tutti determinati, senza paura. Archiviata la Coppa Italia, si lavora ora sugli errori e si insisterà sui miglioramenti dei tanti buoni spunti rilevati in vista del debutto di campionato. Stagione 2021-2022 che vedrà la Vis esordire domenica 29 agosto in casa del Siena. La domenica seguente, prima di campionato, Albenelli col Ponte d'Era, sperando in una risposta di pubblico più consistente della sparuta rappresentanza vista in Coppa Italia. E con lo sport si conclude dunque questa nostra edizione delle telegiornali Rossini News. Prima di salutarci vi ricordiamo la nostra prima serata in questo lunedì 23 agosto dedicata alla moda e precisamente a notte in moda. Riviviamo le immagini e il fascino di questa bella sfilata realizzata dall'associazione Arte Moda. Appuntamento dunque questa sera alle 21.15. Ed è davvero tutto per questa nostra edizione del telegiornale Rossini News. Vi ricordiamo che l'informazione su Rossini TV torna puntuale domattina alle 7.20 con la nostra segna stampa Buongiorno Rossini. Nel frattempo vi auguriamo una buona serata e una buona continuazione con i programmi di Rossini TV. Grazie a tutti.